Siamo arrivati alla conclusione di Librandosi in volo, insomma un maggio che come possiamo definire Maria Rosaria Gioffre che è la presidente ed insieme per aprire la città ed è anche l'associazione che ha organizzato l'evento. È stato un mese veramente entusiasmante, appassionante, è stato bello, abbiamo ricevuto tanto entusiasmo anche da parte di tutti quelli che hanno partecipato dai piccolissimi ai grandi, presentazioni di libri, incontri, incroci tra libri, film, musica, insomma ci siamo divertiti e abbiamo avuto anche la possibilità di viaggiare e di sognare con i libri tutti insieme per cui siamo molto contenti di questo. Ecco diciamo che Librandosi in volo si conclude qui ma probabilmente ci sarà un appendice. Sì, sì, pensiamo di fare un appendice in estate, intanto sicuramente perché abbiamo dedicato due incontri a questo libro straordinario Leoni di Sicilia di Stefania Aucci e noi avremo l'autrice, faremo una presentazione proprio con lei in giugno, ancora non sappiamo la data avevamo una data però poi abbiamo dovuto spostarla per cui insomma attendiamo la casa editrice, notizie sulla nuova data per cui poi lo diremo quindi sicuramente ci sarà questo ma poi ci saranno anche altri appuntamenti c'è per esempio l'intenzione poi da settembre di istituire qui nella biblioteca comunale il gruppo Nati per Leggere perché ieri è stato bellissimo, i bambini sono stati davvero straordinari, tante mamme, tanti papà presenti quindi c'è anche questa intenzione ma poi tante altre cose, i laboratori con Roberta che sono stati molto partecipati perché i bambini hanno tanta sete, i ragazzi hanno tanta sete di venire a, di stare in contatto con i libri e quindi abbiamo intenzione sì di continuare Bene, naturalmente poi annunceremo tutte queste date, queste iniziative ed anche quella che si svolgerà tra giugno e luglio quella con l'autrice Stefania Aucci però di questo poi ne parleremo dopo Roberta si accennava ai laboratori, insomma bambini entusiasti e mamme felici perché hanno visto questa partecipazione dei bambini una partecipazione attiva tra l'altro Ma certo, i laboratori, tutte le iniziative promosse hanno risposto un po' alle esigenze del territorio se un consuntivo si deve fare è giusto anche pensare a questo la partecipazione dei bambini, delle mamme è un dato importante perché vuol dire che il territorio risponde e risponde dove c'è più carenza, in fondo per i piccoli c'è ben poco quindi questa partecipazione deve servire anche come ripartenza per offrire qualcosa anche in futuro perché è stato bello che sia partito proprio dalle mamme, l'idea ci saranno altri incontri, ci saranno altri laboratori quindi la formula ha funzionato però quello che ha funzionato di più è stato il lavoro insieme e mi piacerebbe proprio sintetizzare questo mese con un proverbio indiano che dice se vuoi arrivare in fretta corri da solo, se vuoi arrivare lontano corri insieme a qualcuno e quindi insieme è la parola chiave Ecco insieme lo sottolineava Roberta Macri, naturalmente anche il comune di Bagnara Calabra ha seguito queste iniziative, l'ho fatta attraverso la Presidente del Consiglio Comunale Tina Maceri a cui chiede l'importanza di portare avanti iniziative culturali come queste e l'importanza di puntare sempre più sulla biblioteca comunale Sì, non ne abbiamo mai abbastanza praticamente di queste belle iniziative Sono contenta perché questo mese è stato intenso però ha dato molte soddisfazioni e soprattutto come diceva chi mi ha preceduto si è potuto seminare ma si è già cominciato a raccogliere qualche cosa e che cosa è emerso da questo mese? Almeno quello che posso ricavare io per parte della biblioteca e dell'amministrazione che sono venute fuori tante idee e sicuramente è un po' come dire un seme che dobbiamo fare germogliare c'è molta carne al fuoco già per l'estate ci sono delle idee in cantiere delle quali in questo momento non voglio anticipare nulla perché sapete è necessario mettere a punto tanti elementi però le idee ci sono e ci auguriamo di poterle realizzare magari proprio ancora con questo tipo di collaborazione perché no, sempre più proficua e con risultati belli come quelli che abbiamo ottenuto Ecco, siamo qui in biblioteca abbiamo aperto qui presso la biblioteca comunale naturalmente chiudiamo in questa biblioteca e se queste iniziative si sono potute anche fare grazie alla disponibilità e alla generosità di Pinaluppino che l'ha detta alla biblioteca comunale ma è qualcosa anche di più e naturalmente voglio ricordare anche che ci troviamo qui presso la biblioteca generale Irakà e centro multimediale uccilo presto questo non lo dimentichiamo perché lo ricordiamo sempre grazie anche alla generosità di questa famiglia Pina, concludiamo questo mese ma tante cose bollono in pentola quindi diamo appuntamento al prossimo programma che andremo a fare a breve tempo voglio solo ringraziare una persona che non c'è e sarebbe Stefania perché non c'è per motivi personali perché è stato molto importante un tassello importante di questa iniziativa la ringraziamo perché lei è carina veramente e come dire fa parte di questo gruppo abbastanza volenteroso ecco di folli sì diciamo tutto qui ringrazio tutti ringrazio loro mi sentirò adesso un po' più sola perché ovviamente ero sempre in compagnia impegnata speriamo che a breve tempo riusciamo a riorganizzare di nuovo la nostra estate più proficua rispetto a quella dell'anno passato vabbè a parte i libri, la cultura e quant'altro prepara le fragole col cioccolato qualcuno arriverà qualcuno arriverà allora Maria Rosaria le conclusioni la soddisfazione insomma e queste serate queste iniziative ti danno voglia insomma di ripartire già da domani sì sì sicuramente ora ci riposiamo un poco però ci riposiamo apparentemente perché siamo già in contatto per vedere cosa fare però insomma volevo ribadire il discorso di insieme che diceva Roberta perché è importantissimo abbiamo parlato abbiamo utilizzato molto la parola sinergie veramente se questa cosa è potuta accadere così bella è perché siamo stati insieme perché l'associazione insieme per riaprire la città si è riunita all'associazione Caravilla si è unita al comune di Bagnara alla biblioteca comunale ad altre associazioni che da Reggio sono venute qua l'associazione Magnolia è l'associazione il gruppo nati per leggere di Reggio Calabria Amnesty International gli amici della chitarra musicisti Valentina Sofio Pasquale Nassi che hanno partecipato forse ne dimentico qualcuno ma veramente alla scuola e le scuole che hanno partecipato ci hanno mandato i ragazzi sono stati davvero entusiasti anche loro le famiglie le mamme i papà insomma un po' tutti tutto questo è frutto di una bella sinergia che si è creata e che ci ha veramente reso felici e quindi ringraziamo davvero tutti anche quelli di cui in questo momento ci stiamo dimenticando e in particolare non dimentichiamolo mai che ha reso possibile questo cioè che ha dato alla nostra città questa bella biblioteca non ci resta adesso che chiudere insieme per riaprire le città la biblioteca comunale tutte le associazioni che hanno collaborato ma anche i singoli tutti coloro i quali sono stati citati da Maria Rosaria vi danno appuntamento alle prossime iniziative grazie grazie grazie